Ciao ragazze! Allora sì, il background è di nuovo cambiato, lo so che in questo periodo c'è una confusione, non sapete più dove abito, ma credetemi, non lo so nemmeno io in questo trasloco da una parte all'altra dell'Europa. Qui, in questo momento, mi trovo a Cortina, davanti a me c'è un panorama splendido splendido con la neve e questa è casa del mio ragazzo, quindi ecco spiegato questo background. Allora, oggi io ho in realtà un annuncio perché, se vi ricordate, tempo fa vi avevo detto che stavo lavorando su diversi progetti. Uno, naturalmente, lo sapete, era il libro che ormai è uscito a settembre, vi sta piacendo un sacco e la cosa mi riempie di gioia, non avete idea, non mi dilungo troppo su questo perché sapete quanto sono felice. E il secondo progetto è un progetto su cui abbiamo lavorato veramente, veramente tanto ed è l'app per il cellulare, la mia app per il cellulare, quindi l'app di Kiss & Makeup per il cellulare, appunto, tutto quello. Allora, intanto ve la faccio vedere, io non sono brava con queste cose, ve la faccio vedere subito perché sono troppo emozionata. Allora, eccola, spero riusciate a vederla, ho regolato la luminosità per farvela vedere, non guardate il mio smalto in questo momento, ma guardate l'app che naturalmente sta al primo posto sul mio cellulare. E queste naturalmente sono io, vedete, Nicole, e appunto l'app si chiama Kiss & Makeup 01. È disponibile sia per iOS che per Android, naturalmente, e la cosa più importante è che è completamente gratuita, quindi non si paga se volete scaricarla, è gratis, è gratis, è gratis. E dentro ci sono, e c'è tutto il mio mondo praticamente, quindi da adesso in poi non dovrete più andare su Instagram, Twitter, Facebook, blog, YouTube, per vedere quello che è, insomma, il mio mondo. Vi basterà andare sulla mia app, quindi scaricatevela, vi metterò i link al download qui sotto nel box informazioni, vi ripeto ancora una volta, è completamente gratis, quindi non pagate niente. Ed è, e appunto lì troverete tutto, i miei video, le ultime foto, insomma, gli ultimi post che ho messo, quindi adesso tutti i miei social sono raggruppati in un unico posto che è finalmente la mia app. Sono veramente emozionatissima perché su quest'app ci ho lavorato per talmente tanto tempo che voi non avete idea e il perché è sostanzialmente uno, perché io non sono mai soddisfatta delle cose e quindi i tecnici probabilmente mi staranno odiando in questo momento perché io ho rotto veramente tanto tanto le scatole, ma ogni dettaglio, ogni cosa io volevo che fosse perfetta è perché sono convinta che se una cosa piace a me, allora, piacerà anche a voi e quindi doveva essere esattamente come volevo io. Ma tutte le sezioni, allora ci sono un sacco di sezioni, c'è la sezione dupe, vi faccio vedere anche qualcosina in anteprima dal menu. Eccoci, queste sono tutte le sezioni presenti nell'app, naturalmente sono tutte idee interamente mie, sono tutte le sezioni che volevo. Ci sono, appunto, c'è la sezione dupe, la sezione in corrisponde, la make up selfie, in cui poi voi potete farvi i selfie, mi fate vedere come avete ricreato i miei trucchi, le mie nail art, che è una figata veramente perché, insomma, sono sempre molto curiosa di vedere se ricreate quello che faccio io. Poi il calendario dove ci saranno tutti gli appuntamenti più importanti, quindi i miei incontri, le date dei miei incontri, i miei viaggi, insomma, lì veramente sul calendario saprete tutto dove mi trovo in qualsiasi momento. Ci sono, appunto, tutte le foto da Instagram, tutte le foto di Facebook, i post, i video, soprattutto, già nella home avrete tutto, tutto quanto dall'app, appunto, non dovete più andare su 3000 social. Vi basta controllare l'app e poi un'altra cosa, vabbè, poi c'è, appunto, vi dicevo prima la sezione dupe, quindi inserirò man mano, già c'è quel cosina e poi voi potete segnalarmi i dupe, cosa interessantissima, perché spesso me li scrivete nei commenti sotto i video sui dupe, ma poi vanno persi, quindi qui raggrupperemo tutto quanto in un'unica sezione, così se volete risparmiare ci sono tutti i doppioni economici dei prodotti più costosi, naturalmente, tutti raggruppati. E poi, altra cosa, c'è, vabbè, il top del momento, quindi con tutti i miei prodotti preferiti, my life, tutte le cosine che mi riguardano, novità, eccetera, eccetera, la classifica, perché c'è una figata pazzesca, a cui ho pensato io, in quest'app, che è praticamente le ragazze più attive in quest'app, saranno presenti in una classifica e quindi potranno guadagnare punti, ma, appunto, saprete tutto utilizzando l'app, è veramente, veramente semplice. Ho voluto che fosse super, super semplice, anche perché, lo sapete, io non è che mi intenda tantissimo di cellulare, eccetera, quindi dovevo avere una cosa super intuitiva, super semplice, che fosse alla portata di tutti. E poi un'altra figata, la sezione Nicole Risponde, perché se prima mi lasciavate le domande un po' qui, un po' là, su Instagram, su Facebook, eccetera, adesso c'è una sezione dedicata sul mio cellulare, basta cliccare, appunto, sulla sezione Nicole Risponde, naturalmente. Potete anche registrarvi all'app, appunto, così avrete anche voi il vostro, il vostro nickname, la foto, mettiti a fuoco. Ok, vedete, potete avere la foto, il vostro nickname, naturalmente, e sono contenta, appunto, perché tutte le domande potrete lasciarmele qui. Quindi molto spesso mi chiedete dove posso lasciarti le domande, perché io poi rispondo nei miei video Nicole Risponde a tutte le vostre domande, quindi da adesso in poi potete lasciarmele tutte, tutte qui. Volevo farvi vedere anche la sezione dupe, come vedete già ne ho inseriti parecchi, quindi qui ci sono tutti i doppioni dei prodotti più costosi, c'è marca, prezzo di uno, prezzo dell'altro, somiglianza tra l'uno e l'altro. Poi questa è la sezione calendario, in, appunto, evidenziate, troverete tutte le varie, tutti gli eventi, tutte le tappe, eccetera, eccetera, eccetera. Fatemi sapere, naturalmente, anche se vi piace la grafica, perché naturalmente l'icona l'ho scelta, io assolutamente ho voluto anche che ci fosse il mio logo con il kiss, con le labbra. E poi, insomma, voglio sapere se vi piace, appunto, cliccando vi appaie, vi appaie, vi appare la schermata col cartoon e poi, appunto, questo è la home, con tutti i miei ultimi post su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, naturalmente, con tutti i video. Quindi questo è quanto, in anteprima potete vedere questo e questa fotina, per il mio screensaver, e basta, insomma, sostanzialmente. Questo è quanto, ragazze, spero che vi sia piaciuto questo video, insomma, e questa piccola anteprima, perché in tante me l'avete chiesto, quindi non è stato un caso. E poi, insomma, voglio sapere se siete emozionate quanto me per il lancio di quest'app, spero che la scaricarete in tante, che mi farete sapere se vi piace, quindi non perdete tempo, cliccate sui link qua sotto, scaricatela, perché è gratis e fatemi sapere subito, subito, nei commenti, se vi piace, se non vi piace, se vi intendete che cosa vorreste migliorare, oppure che cosa manca, oppure, non lo so, se vi piace, perché vi piace. Quindi, aspetto tutti i vostri commenti, mi raccomando, i vostri feedback sull'app, e niente, mando un bacio, alla prossima, ciao! Siamo a pranzo, ma sto filmando, non per farvi vedere il pranzo, e sto prendendo tutti in giro, ma perché dice lui come sono, praticamente, e siccome mi hanno detto che io volevo farmi un selfie con lui, e mi hanno detto, no, lui non si fa i selfie assolutamente, allora io lo filmerò di nascosto.